Amici di Space TV, eccoci qui ancora una volta insieme, questa volta per una particolare intervista che sicuramente susciterà fascino ed emozione. Infatti siamo qui con due personaggi davvero importanti e di rilievo, il giornalista scientifico e divulgatore Luigi Pignami e l'astronauta, pilota collaudatore e anche scalatore Maurizio Cheli. Perché siamo qua insieme in questa occasione? Per parlare appunto dell'ultima impresa che Maurizio Cheli ha realizzato nel 2018, che è stato quello di tentare di raggiungere il cielo a piedi, come dice lui, attraverso la scalata dell'Everest. Un'impresa bellissima, alla quale vogliamo dedicare qualche minuto per vederla in pochi salienti passaggi video e per poi passare appunto la parola al nostro giornalista Luigi Pignami, anche geologo, che farà qualche domanda curiosa e particolare per saperne di più su questa fantastica missione. Adesso guardiamoci il video e poi partiamo con le domande. Grazie a tutti. L'ultimo pezzo della parte facile. Siamo nella valle del silenzio. Si sente solo il rumore dei ramponi sul ghiaccio, il ritmo del respiro e il ritmo del tuo cuore. Che esperienza! Vado, vado lentamente, ma vado. Pronto. Io sono pronto. Vado, vado a servire. Duonga, vado lentamente. Novi, vado lati. Ecco Maurizio Chedi, abbiamo visto questo fantastico video, queste fantastiche immagini che per chi ama la montagna davvero fanno venire la pelle d'oca. Sono state montate benissimo, tu ci fai vedere l'emozione e anche quei momenti in cui saluti, in cui ci fai vivere quei pochi secondi ai diversi campi, ma salire l'Eberest è stato il culmine di un tuo amore per la montagna che immagino sia partito molto tempo fa. Quando ti è nata questa passione per la montagna? Diciamo a me la montagna è sempre piaciuta perché è un mondo ovviamente nel quale ti puoi ritrovare, che ti rilassa, vissuta in tutti i modi, camminando, facendo trekking, a me piace anche molto fare bicicletta da strada e quindi d'estate sono sempre sui colli delle Alpi, i colli del Tour de France o del Giro d'Italia. E poi sicuramente andando avanti viene anche l'idea di cominciare a scalare qualcosa di più impegnativo. E quindi diciamo questo amore un po' per le quote, devo dire, l'ho sempre avuto dentro, l'ho stato latente. Certamente salire l'Eberest non è stata un'impresa che hai messo in piedi dall'oggi al domani, ma hai dovuto sviluppare un curriculum diciamo montano con cime via via sempre più alte. Sì, questo è vero perché c'è un po' adesso anche la tendenza a dire che è tutto facile, che tanto sull'Eberest hai il tubo dell'ossigeno mentre vai su, che ti portano gli scerpa in spalla, eccetera. Posso assicurare che non è così, sono delle semplificazioni che a volte anche sui social si tende ad enfatizzare. Io sono partito onestamente da zero perché ero già stato in quota, a quote attorno ai 5.400 metri, ma su sentieri da trekking in Nepal. Non avevo mai scalato e sicuramente non avevo mai raggiunto quote così alte. Per cui mi sono posto il problema di come fare per raggiungerlo soprattutto in sicurezza, perché come chissà chi va in montagna non basta salire, bisogna anche poi tornare a casa soprattutto. Ho cercato e ho adottato, diciamo, quando ho affrontato questo problema, esattamente lo stesso metodo che avevo appreso quando ho fatto l'astronauta o quando mi sono addestrato come pilota. Cioè partendo da cose semplici e volvendo, diciamo, affronto sfide via via sempre più complesse. Quindi la prima cosa ho cercato una guida, una guida alpina, esperta, con la quale sono stato in giro praticamente tutta l'estate del 2016. Sono molto fortunato perché abitando nel nord ovest dell'Italia, quasi tantissimi, 4.000 italiani, sono da queste parti. Ovviamente se ne sono di più semplici, ma di altri un po' più difficili. E alla fine dell'estate volevo fare, diciamo, avevo due domande, una per me e una per lui. La domanda per me era, ti piace? Perché se non ti piace è meglio lasciar perdere, perché è un investimento di tempo e energie che è veramente molto grande. E poi a lui, visto che era un asclinista esperto, che aveva già fatto 7.000-8.000 nella sua carriera alpinistica, volevo sapere se potenzialmente potevo essere in grado di arrivare in cima. Perché se mi avesse detto, no, guarda, lascia perdere, ovviamente avrei seguito il consiglio a una persona esperta. Fatto quest'estate, le due risposte sono state sì, per cui mi sono allenato anche tutta l'estate del 2017 e poi ad agosto del 2017 sono andato sul Chilimangiaro, che è una montagna diciamo di circa 6.000 metri, tecnicamente non difficile, ma comunque c'è la quota. e dopo l'autunno di allenamento ho affrontato per le vacanze di Natale tra il 2017 e il 2018 la Concagua, e questa è già una montagna di quasi 7.000 metri, anche lì tecnicamente non difficile, ma già molto più impegnativa del Chilimangiaro. Ho visto che con la quota non avevo grassissimi problemi, sono fortunato con il mal di montagna, e dopo un ulteriore allenamento nell'inverno dei primi mesi del 2018, il 10 aprile del 2018 siamo partiti per Kathmandu. C'è stato salendo l'Everest qualcosa che non ti aspettavi, particolarmente difficile che non ti aspettavi e poi cosa hai provato davvero arrivando in cima alla montagna più alta della Terra? Ma che non mi aspettavo, proprio non mi aspettavo di sorprese, non ne ho avute, avevo letto anche molto, anche libri scritti su grandi tragedie che sono accadute, che sono abberate sull'Everest, quindi diciamo che almeno da un punto di vista teorico, sulle difficoltà che avrei potuto trovare, un'idea ce l'avevo. Ci sono delle pendenze molto impegnative, per le quali un conto è leggerle, sentirele parlare, un conto è doverla affrontare, ovviamente, è tutta un'altra cosa. E poi io la chiamo una missione, è comunque una spedizione molto lunga, perché ci vogliono circa 50 giorni alla fine, da quando parti dall'Italia a quando ritorni in Italia, perché c'è tutto il problema dell'acclimatazione ad alta quota. E questo richiede, diciamo, molta determinazione e molta costanza, per un periodo, diciamo, dieci giorni di trek per arrivare al campo base, e poi almeno altre tre, quattro settimane di acclimatazione, e poi si spera sempre nella finestra meteo. E adesso, naturalmente, il tumore per la montagna non ti fa sedere dietro una sedia. Ha in mente qualcos'altro che ti piacerebbe portare a termine? Sì, ho in mente qualcos'altro, diciamo, non così impegnativo come con l'Everest, perché, come dicevo, anche dal punto di vista fisico è comunque qualcosa di impegnativo. Si sale a 8.848 metri, io a quelle quote c'ero stato solo con un aeroplano, devo dire la verità. è stata un'esperienza per me bellissima, perché vedere, tra l'altro, nella vita ci vuole sempre anche un po' di fortuna. Il giorno in cui sono arrivato in vetta, ovviamente ho trovato una giornata dove non c'era una nube su tutto l'orizzonte, c'era pochissimo vero vento, e sono stato in vetta quasi un'ora, che è qualcosa di incredibile, che normalmente ci si sta pochi minuti, 5-10 minuti, un quarto d'ora massimo. Però il tempo era talmente bello che era qualcosa di affascinante. Già da lì si vede molto bene la curvatura della Terra, e quindi è come se si fosse chiuso un cerchio per me. Ho in mente qualcos'altro, mi piacerebbe, ma questo è ancora un sogno, concludere questo percorso delle 7 summits. Non so se ci riuscirò, perché richiede anche questo investimento di tempo e delle energie, però è sempre bello avere qualche sogno, qualcosa a cui aspirare. Delle 7 ne ho già fatte 3, 2 abbastanza impegnative, ne rimangono altre, vediamo cosa porterà il futuro. A noi non rimane che farti davvero tanti tanti auguri, se non saranno le 7, le 7 summits, saranno le 8 meno alte di tutti i continenti, ma certamente le montagne sono belle anche appunto quando sono più basse rispetto alle cime di tutti i continenti. Quindi davvero auguri, Kelly, e adesso ti lascio al pubblico per parlare della tua grande impresa che ti ha portato ben oltre gli 8.848 metri dell'Everest. Grazie a te, Luigi. Grazie a tutti voi, è stata una intervista molto molto bella perché Maurizio sa dare sempre questa intensità, questa emozionalità in tutto ciò che racconta, ci mette un entusiasmo, una passione che ci fa tornare tutti un po' bambini desiderosi di conquiste e la sua sete di conquiste e di voglia di continuare a scoprire non è ancora finita e l'abbiamo benissimo capito che ci farà altre meravigliose sorprese. Ringraziamo Luigi per le sue domande, per la sua partecipazione con noi a questa bellissima intervista e ricordiamo che su Space TV si parla con Maurizio Kelly anche in altri nostri video dove si parla delle sue imprese come astronauta, come pilota collaudatore e anche come imprenditore. Quindi non perdete di seguirci sempre su Space TV con i nostri video e grazie a tutti voi. Arrivederci.